Buongiorno a tutti, sta per partire il secondo modulo del laboratorio dal basso a trazione di terra qui a San Michele di Bari presso il Castello Caracciolo nonché museo della civiltà contadina di No Bianco. Il secondo modulo del laboratorio vede in questa mattinata come ospite la dottoressa Barbara Cristina Zangelmi che è qui a rappresentare in qualità di direttrice responsabile della didattica l'ecomuseo Feltrificio Crumier. che si trova a Villar Pelice, giusto Barbara, in provincia di Torino. Abbiamo scelto la sua testimonianza, la sua presenza, proprio perché innanzitutto questo ecomuseo vive, si trova in un luogo abbastanza caratteristico secondo me, io l'ho visitato nel 2009 e poi sia per questo sia anche per tutta una serie di attività che sono state implementate dal punto di vista della didattica legate a questo materiale, il feltro e soprattutto legate a questo antico feltrificio che è stato in un certo senso recuperato e quindi recuperato ed è diventato appunto sede ecomuseale. Il fatto che loro abbiano implementato appunto la didattica, hanno partecipato ad una serie di iniziative a livello provinciale come per esempio Eco e Narciso di cui vi parlerà anche la dottoressa Zangelmi, sta nel fatto che il sistema ecomuseale e in particolare il concetto di ecomuseo nella regione Piemonte è molto, diciamo, all'inizio, è alla sua origine che cosa voglio dire? Che in Puglia abbiamo una legge regionale sugli ecomusei che è abbastanza recente mentre in Piemonte questo concetto di ecomuseo, quindi questo museo nuovo che non è un museo contenitore ma in realtà è un museo che comprende lo stesso territorio, quindi la comunità e il territorio e ha una storia e quindi è una storia un po' più antica, antica diciamo di qualche anno, già quasi forse negli anni 90, vero? C'è questa, la legge piemontese sugli ecomusei. Penso, ma io non sono ferrata in fatto di legge date. Quindi questo, il suo contributo potrebbe essere utile a chi si occupa di ecomusei qui in Puglia e appunto a chi vorrebbe implementare all'interno di musei e all'interno di altre realtà appunto questo tipo di didattica. Avremo un particolare riferimento sia nell'attività laboratoriale che nella presentazione della dottoressa alla didattica e alla fruizione dei contenuti culturali da parte di persone non vedenti e questa è una cosa diciamo molto interessante, interessante perché? Perché in un certo senso in termini di standard qualitativi l'accessibilità ormai dei contenuti culturali e della didattica museale è riconosciuta a livello internazionale, anzi secondo l'ICOM che è l'associazione internazionale dei musei dovremmo appunto migliorare noi i nostri standard e appunto ampliare la categoria di pubblico proprio perché appunto la definizione dell'ICOM di museo e quindi Ecomuseo è importante ed è quella di essere appunto un'istituzione educativa permanente. In questo concetto si inserisce appunto la necessità di aprirsi a tutte le categorie di pubblico sia per diritto che per appunto credo per missione. Quindi lascio la parola a Barbara, buon lavoro. Grazie. Devo usare il microfono? No, non serve. Non mi serve. Allora, buongiorno, grazie della pazienza che spero avrete nell'ascoltare, cercherò di non annoiarvi. Io vorrei però prima di iniziare a parlare del museo, vorrei parlarvi un attimo del feltro. Questo perché? Perché quando io sono diventata, sono entrata a far parte dell'associazione di volontari che gestisce il museo, avevo confesso un'idea molto vaga come molti di cosa in effetti sia il feltro e ne avevo assolutamente sottovalutato l'importanza, la storicità e via dicendo. Quindi per evitare di brancolare un pochino nel buio, volevo parlarvi un attimo molto brevemente del feltro perché il feltro in realtà è un materiale estremamente interessante. È estremamente interessante perché è stato il primo materiale tessile della storia dell'umanità. Quindi quando l'uomo non ha inventato il feltro, ha scoperto il feltro che è diverso, quando l'uomo ha scoperto come feltrare si è letteralmente cambiato la vita. Fino ad allora avevano solo le pelli degli animali per potersi coprire e ovviamente la pelle degli animali ha dei limiti ben precisi, tipo quella di dover ammazzare l'animale, tipo il fatto che quando piove diventa pesantissima e via dicendo. A un certo punto, in un momento imprecisato della storia, che gli storici fanno risalire a 6.000 anni fa, c'è chi dice 6.000, chi addirittura di più, un uomo primitivo o qualcuno ha capito come avveniva l'infeltrimento. Da quel momento ha avuto a disposizione un materiale impermeabile caldo per coprirsi, per realizzare delle coperture per gli animali, per realizzare delle capanne, perché il feltro è impermeabile, e delle bisacce per trasportare i materiali. Quindi questo feltro ha letteralmente cambiato la storia dell'umanità. Perché il feltro storicamente è il primo? Perché non è stato necessario, a differenza della tessitura, scoprire, e questo è arrivato dopo, tutta la questione della filatura, della ritorsione del filato e quindi poi inventare i telai, eccetera, eccetera. Il feltro è costituito semplicemente da fibre che si aggregano, si aggrappano tra di loro in modo inscindibile. Come avviene tutto ciò? Se voi prendete una fibra di lana e la guardate al microscopio, questa fibra è rivestita di scaglie, esattamente come una pigna o come il capello umano. Bisogna fare in modo di aprire queste scaglie. Per aprirle cosa bisogna fare? Bisogna cambiare il pH. Quindi, l'uomo primitivo usava l'urina. Noi, che siamo per fortuna un po' più civili, usiamo il sapone. Il sapone cambia il pH, sconfigge la barriera di impermeabilità, in altre parole. Difatti le pecore stanno nei prati sotto la pioggia e non si bagnano. Ed il feltro è impermeabile per questo motivo. Quindi si sconfigge la barriera di impermeabilità, si fanno aprire le scaglie con acqua calda e sapone. Sotto le scaglie ci sono dei, diciamo, dei microncini. Con il movimento questi microncini si aggrappano tra di loro e a questo punto si crea un tessuto che è creato per aggrappamento e da lì non si muovono più. Dopodiché lo si deve sciacquare molto bene perché se si lasciasse il sapone, il sapone continua a lavorare e quindi poi marcirebbe questo tessuto. Sciacquandolo con l'acqua fredda e togliendo ogni traccia di sapone, le scaglie si richiudono ed ecco perché il feltro poi ritorna allo stato di impermeabilità. Quindi è un tessuto impermeabile. Questo feltro è il primo di tre tipi di feltro. È quello che noi in museo chiamiamo il feltro primitivo ed è quello che si realizza nei laboratori, è quello che vedete quando le persone fanno i cappelli di feltro piuttosto che l'oggettistica. Il secondo tipo è il feltro industriale. Il feltro industriale, a differenza del primo, è invece un tessuto, quindi qui si parla di telaio, si parla di intreccio di fibre, che viene in un secondo tempo infeltrito. Avete presente quando prendete il golfino e per sbaglio lo cacciate in lavatrice in un programma troppo alto e vi esce così? Ecco, quello è l'infeltrimento industriale. Noi, e poi ve lo illustrerò meglio, vedete quell'edificio? Quello è l'ecomuseo. In realtà quella era la fabbrica del feltro nei tempi antichi. La fabbrica attualmente è stata spostata di fianco in un edificio più moderno e funziona, e quindi produce appunto feltri industriali. Perciò in museo abbiamo il feltro primitivo, la produzione del feltro primitivo, e in fabbrica il feltro industriale. Questi feltri industriali sono quindi enormi tessuti di lana che vengono infeltriti con dei macchinari, dei quali poi vi parlerò brevemente. A cosa servono? Servono, per esempio, a fare la carta. La carta si fa sul feltro, con lo stesso principio col quale si spalma, che so io, il Philadelphia sul pane, si spalma la pasta di cellulosa sul feltro e il feltro dà l'impronta. Difatti si chiamano feltri marcatori. La pasta asciuga sopra il feltro, ne prende l'impronta e una volta asciutto il foglio si stacca. Le più belle carte della Fabriano sono fatte sui feltri prodotti in crumiere. E quindi siamo al secondo tipo. Terzo e ultimo, il cosiddetto agugliato. Esistono degli aghi, vengono portati due per farveli poi sia vedere che toccare con molta attenzione, che sono gli aghi da infeltrimento. Non so se qualcuno di voi li ha già visti, sono lunghissimi, molto fragili e nella punta hanno come degli speroni. Entrando e uscendo con un movimento meccanico della mano attraverso le fibre, questi speroni agganciano e quindi effettuano un infiltrimento meccanico. Questo sistema in museo, in hobbistica, si può utilizzare per scolpire la lana, ossia partendo dalla lana cardata con un ago, semplicemente una base su cui lavorare, si possono creare degli oggetti, dall'animaletto piuttosto che la scultura, qualsiasi cosa senza bisogno né di cucire né di incollare, semplicemente solo con l'ago da feltro. In fabbrica, e questo si chiama feltro agugliato, questo procedimento viene usato con un enorme macchinario, con migliaia di aghi, per realizzare il feltro sintetico. Il sintetico non reagirebbe all'acqua sapone e quindi è necessario un infiltrimento meccanico. Bene, questa era la piccolissima panoramica che vi volevo fare sul feltro, perché secondo me permette poi di capire meglio tutto quanto. Quindi abbiamo il feltro primitivo, il feltro industriale e il feltro agugliato. Adesso andiamo al museo. Il museo, lo vedete dalle immagini, è un edificio antichissimo, è sempre stato un edificio industriale. Le date più antiche al Catasso vanno sul 1790, quindi veramente molto molto antico, e ha avuto diverse destinazioni d'uso. Siamo non proprio in montagna, ma siamo comunque in pre-montagna. Questo cosa significa? Significa che ci sono i pendii e c'è la caduta dell'acqua, e quindi una fonte di energia nei tempi antichi. Difatti le fabbriche venivano tutte costruite in montagna, proprio perché si sfruttava la caduta dell'acqua. Quindi questo edificio industriale, poi ovviamente rimaneggiato, ritoccato nel corso dei tempi, ha avuto destinazioni tipo mulino della lana, mulino dei cereali, opificio, quant'altro. Ultima destinazione, prima di diventare feltrificio, pastificio. Perché la pasta, prima che inventassero gli essiccatori industriali, si faceva laddove c'era aria, perché doveva asciugare, altrimenti sarebbe muffita e non si poteva vendere. L'avventura pastificio era finita male, malamente, e quindi questo signore alsaziano, che si chiamava Eugenio Cromier, e che era arrivato in Val Pellice, lui era un tecnico feltraio e veniva da una famiglia di feltrai che vivevano ad Annonè, in Alsazia. Questo signore Eugenio Cromier arriva a Torre Pellice alla fine del 1800, nel 1894, si guarda un po' intorno, rileva un'attività, dopodiché trova quello che stava cercando, ossia un edificio industriale che avesse l'energia derivante dalla caduta dell'acqua. Perché ha scelto Villar Pellice? I suoi motivi personali ovviamente non li sapremo mai, anche perché non ha avuto eredi, quindi la storia, diciamo, dell'uomo si è un po' persa. Ne sappiamo però alcuni oggettivi, che sono appunto l'edificio, tra l'altro rilevato a un buon prezzo, derivante dalla caduta dell'acqua, come energia. Il fatto che nel Pinerolese, all'epoca, sto parlando di inizio 1900, c'erano tantissime industrie tessili e tantissime industrie che producevano carta, cartiere, di conseguenza il feltro era un materiale molto richiesto. Il fatto che in questo paesino, come in tutta la Val Pellice, ma in particolare a Villar, la prevalenza della popolazione è valdese. Questo cosa significava? Significava che all'inizio del 1900 il paesino valdese era costituito geograficamente da un gruppetto di casi incentrati intorno a una scuoletta, le famose scuolette Beckwick, per i quali i valdesi vanno famosi. Mentre nelle altre valli, parliamo di valli di montagna, i paesini cattolici erano il gruppetto di case intorno alla chiesa. Qual era la differenza? In questa valle, proprio per tutte queste scuole, l'analfabetismo era pressoché inesistente e si parla di 1900 inizio. Nel tessile è necessario saper leggere e scrivere, perché è comunque una lavorazione abbastanza raffinata. Di conseguenza questo era un ulteriore motivo per scegliere quel posto. Ultimo, dentro al museo c'è un'enorme, allora fabbrica, un'enorme parete contro la roccia e la parete contro la roccia è ricercata laddove si lavora la lana perché se l'aria è troppo secca, la lana diventa elettrostatica e non infiltrisce. Quindi per tutti questi motivi, questo signore apre nel 1904 la fabbrica esattamente come la vedete. I due piani, sono tre piani in realtà, i due piani sotto, ancora adesso conservano i grandi macchinari che sono sempre piuttosto enormi e di tutti questi macchinari, i due vengono ancora usati dagli operai della fabbrica che si spostano e vengono a usarli per delle lavorazioni particolari. Il piano sopra erano gli uffici e i magazzini. Cromier a un certo punto, in vecchia, comincia a cedere una parte delle sue quote, poi tutte le quote a un gruppo francese, azaziano Dolphy Senoac, e queste persone seguono fino a un certo punto bene, e poi malissimo, tutta l'avventura italiana, era un'espansione europea, al punto che negli anni 60-70 cominciano a far arrivare a Villarpellice dei feltri di qualità infime e farli rivendere come se fossero stati prodotti. Ovviamente una politica del genere non può che portare al disastro, e nel 1985 si arriva al fallimento. A quel punto gli operai e le maestranze decidono di giocare il tutto per tutto e rilanciano immediatamente creando una cooperativa che esiste al giorno d'oggi che si chiama Nuova Cromier e che permette in un paesino di 1.100 persone di dare lavoro a 43-44 persone. Diciamo che la crisi ovviamente c'è, però loro hanno fatto pochissimi giorni di cassa integrazione e lavorano, quindi un'iniziativa veramente positiva. Di fianco, perché nel frattempo la fabbrica si è spostata in un edificio più moderno, rimane la vecchia fabbrica abbandonata, che subisce comunque, come tutti gli edifici abbandonati, un degrado pazzesco, finché con i fondi europei e un progetto si decide di trasformare in ecomuseo e quindi viene ristrutturata e diciamo allestita come ecomuseo. Questo ecomuseo ha subito, come penso possiate immaginare, perché tutto il mondo è paese, una serie di gestioni che non hanno portato a nulla, una serie di aperture spurie che sono state fatte giusto per inaugurare, dopodiché si richiudeva, finché, siccome il proprietario dell'edificio è il comune di Villarpellice, il comune ha deciso di aprire, dandone la gestione a un gruppo di volontari. Quindi, all'inizio, per un anno o due, questi volontari hanno portato avanti tutta la questione, dopodiché si è arrivati a definire ufficialmente le cose e quindi è stata creata un'associazione culturale con un'attività commerciale ridotta, con un direttivo di cinque persone, cioè un presidente, un vicepresidente, una persona che si occupa dei conti, un tesoriere, una persona che si occupa della didattica, che in questo caso è anche il presidente, cioè sono io, e poi una quinta persona che si occupa responsabile dei volontari. Quindi noi funzioniamo così. I primi anni, quando ancora io non c'ero, quindi si parla di più di sei anni fa, c'era anche la, come dire, la partecipazione in prima linea della comunità montana, poi le comunità montane pian piano sono state chiuso, comunque ridotte, quindi, e c'erano i finanziamenti. Adesso non ci sono più, perciò diciamo che sono tre anni che noi ci stiamo reggendo con le nostre sole forze, senza un euro di finanziamento, e sono tre anni che riusciamo a chiudere in attivo, facendo i salti mortali, ma ci riusciamo. Visto che qui c'è un'esperienza museale, direi che possiamo scendere nel concreto, ossia come gestiamo tutto questo, perché l'edificio, lo capite anche voi, è tipo questo, immagino il vostro, costoso, enorme, dispersivo, difficilissimo da riscaldare, eccetera, eccetera, eccetera. Pertanto noi abbiamo cercato di ridurre le spese al massimo e di incrementare al massimo le entrate. Ridurre le spese è significato, nel nostro caso, voi vedete che qui c'è una bella neve, non è che in realtà poi sia tutta quella montagna, però comunque siamo a 600 metri con le montagne vicine e l'inverno può essere freddo. Abbiamo constatato che aprire nei mesi invernali, pagando un riscaldamento costosissimo, perché fatto comunque con degli impianti di termoconvettori, con il teleriscaldamento a distanza, eccetera, 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 rispetto al numero dei visitatori che sarebbero venuti in quel periodo e rispetto alle gite scolastiche che ovviamente non vengono effettuate nel periodo dell'inverno, era un investimento veramente drammatico. Quindi la prima cosa che abbiamo fatto, abbiamo ridotto completamente i mesi di apertura. Noi adesso apriamo da fine marzo a ottobre. Perché? Perché le gite scolastiche, almeno da noi, non so da voi, ma da noi le gite scolastiche vengono fatte all'inizio della scuola e poi nel, diciamo, metà aprile, aprile, maggio e qualcosina all'inizio di giugno e fine. E poi volendo c'è l'estate ragazzi. Perciò abbiamo già dato un taglio enorme, perché siamo passati da 9.000 euro di riscaldamento a 1.400, cose del genere, insomma, in un budget ristretto questo fa. Ovviamente abbiamo cercato da lì in avanti di allestire tutto a costo zero, quindi ingegnandoci. Perché poi in realtà esistono delle possibilità di spesa minima. È chiaro che bisogna cambiare completamente impostazione, cioè non c'è un finanziamento per, che so io, realizzare il tale allestimento. Vediamo cosa riusciamo ad allestire con materiali di recupero, con scarti e quant'altro. Considerando che, secondo me, questo è un mio parere personale, ed era un discorso che facevamo prima, alle persone, visto che non siamo, che so io, il museo d'arte oppure non siamo Pompei, alle persone della, come dire, della storicità dell'allestimento, importa fino a un certo punto, preferiscono molto di più vedere qualcosa che possano toccare, che possano apprezzare e le storie magari umane del museo. Perciò si può veramente fare tanto, perché l'ecomuseo, come diceva giustamente prima Giovanna, perché è eco, ecco, giustamente oikos in greco significa ambiente, significa casa, quindi un museo che riguarda tutto l'ambiente circostante e dove all'interno avvengono attività. Le attività da noi come funzionano? funzionano che tutto il piano superiore è stato dedicato a laboratori, quindi tutte le stanze sono state trasformate in stanze da laboratorio. Noi facciamo laboratori di feltro, ovviamente, di carta, per il motivo che vi ho spiegato prima, e di tessitura. Sono le nostre tre attività, dai tre anni ai 90. Perciò lavoriamo con le scuole, lavoriamo con le cooperative che ci portano dei gruppi, lavoriamo con l'Uni3 che ci porta dei gruppi, lavoriamo con le associazioni più disparate che ci portano dei gruppi, e poi realizziamo laboratori su prenotazione, con famiglie, con gruppi di amiche, feste di compleanno, cioè qualsiasi cosa. Perché in effetti, per esempio, con i bambini, un laboratorio a una festa di compleanno, i bambini non ne possono più, di animatori e di tutte queste cose che ormai gli escono dalle orecchie, il fatto di mettersi a feltrare tutti insieme, in allegria, realizzare un oggetto, piace. Ed è un'alternativa carina. Nei mesi nei quali siamo chiusi abbiamo realizzato il museo itinerante, ossia ci carichiamo tutti in macchina e andiamo a destinazione, nelle scuole, piuttosto che negli istituti, ovunque. Il materiale per un laboratorio è relativamente trasportabile, di conseguenza con un po' di accorgimenti si può fare. Tutto ciò sembra meraviglioso, salvo che adesso, per esempio, ci siamo fermati, per quanto riguarda l'attività laboratoriale, perché il problema qual è? Il problema è che per realizzare i laboratori ci vuole del personale formato e anche molto in gamba. Le scuole al giorno d'oggi tendono per problemi di risparmio del trasporto, non ti portano una classe, te ne portano tra tutte insieme. E quando tu sei in museo e devi far feltrare 60 bambini sotto i 6 anni che ti pullulano ovunque, tipo formicaio, devi assolutamente avere un rapporto sufficiente tra persone che gestiscono il laboratorio e i bambini e il numero dei bambini, ovviamente. Quindi questo cosa significa? Che ci vuole del personale formato e per formato intendo non solo nel tecnicismo del feltro, ma anche come approccio, come capacità di empatia, di sorriso, di gestione, via dicendo. e poi per fortuna abbiamo i nostri gentilissimi volontari che si prestano a venire anche solo a guardare che nessun bambino si fiondi giù dalle scale, piuttosto che si appenda a un lampadario, per dire. Quindi in media, se abbiamo 60 bambini, noi tendiamo ad essere 5 del gruppo laboratori più 2 o 3 volontari di supporto. I numeri sono questi. Le persone del gruppo laboratori sono tendenzialmente ragazze e sono ragazze che per statuto devono avere più di 18 anni per problemi legali, assicurativi e via dicendo e che sono ovviamente persone molto in gamba. Proprio perché sono molto in gamba a un certo punto cominciano ad andare via dal paese per forza di cose. Una l'Erasmus in Germania, un'altra si laurea e va da un'altra parte, piuttosto che essere a Torino o all'università, una a quattro lavori mentre si sta laureando. E quindi siamo arrivati a un impas che è quello di quest'anno, per cui ormai il gruppo laboratori si è sciolto perché non c'è più nessuno e di conseguenza abbiamo dovuto fermare le prenotazioni. Così è, nel senso che purtroppo le persone non si possono creare. Parliamo un pochino di cifre che forse vi può essere utile per avere un'idea. Noi praticamente sono tre anni che ci manteniamo costanti quindi le nostre entrate sono più o meno 6.000 euro dai laboratori, più o meno 4.000 euro dalla vendita dei gadget e più o meno 1.200 euro di sbigliettamento. L'entrata del museo costa 3 euro. A Torino esiste un circuito che si chiama Torino Musei. Le persone che prendono la tessera di Torino Musei entrano gratis. Perché? Perché in realtà far parte di questo circuito ha come vantaggio che sei molto più visibile perché entri in tutte le loro pubblicazioni piuttosto che sulla pagina web eccetera eccetera. Ha come svantaggio che essendo un museo piccolo non raggiungiamo la franchigia necessaria per avere un rimborso da parte dei Torino Musei. Quindi per noi tutti quelli con la tessera al museo sono gratis. Perciò i 1.200... Perché ho detto questo? Perché i 1.200 euro diviso 3 non corrisponde al numero effettivo dei visitatori. Ne abbiamo di più però come conteggio siamo lì. Perciò 6.000, 4.000 fa 10.000 diciamo altri 2.000 siamo sui 12.000 11.000 è qualcosa 12.000 Questo è stato il nostro tetto per tre anni. Con questo tetto siamo riusciti a coprire tutte le spese ordinarie perché noi abbiamo una convenzione con il comune. La convenzione dice che noi dobbiamo coprire tutte le spese ordinarie. Quali sono le spese ordinarie? Allora il piano di sicurezza e quindi il professionista nel nostro caso è un architetto che è accreditato per poter stilare e firmare e certificare un piano di sicurezza. Peraltro insieme a me cioè al presidente alla figura del presidente questo professionista è il responsabile penale perché due sono le figure il presidente e chi ha stilato il piano di sicurezza. dopodiché la manutenzione e i controlli degli estintori dell'impianto antincendio dell'ascensore il commercialista che si occupa della contabilità l'IVA ridotta proprio perché associazione culturale con regime fiscale io non sono brava in queste cose ma più o meno ho capito come funziona quindi l'IVA ridotta e le utenze che per convenzione noi copriamo fino all'80% nel senso che se abbiamo in cassa una cifra sufficiente siamo tenuti a pagare l'80% dell'utenza al comune. Le utenze l'anno scorso sono state 3.300 euro e comprendevano il riscaldamento appunto portato bassissimo l'acqua la luce e il telefono la linea internet e telefono pertanto noi di 3.300 abbiamo pagato l'80% la manutenzione ordinaria quindi si è rotta la serratura antincendio di una porta se si fosse rotta la porta l'avrebbe pagata al comune ma la serratura è stata a carico nostro con tutto ciò sono 3 anni che riusciamo a chiudere bene perché conteniamo le spese sotto gli 8.000 e quindi il risultato finale è che per adesso ce la facciamo la cosa fondamentale assolutamente fondamentale è che tutte le normative di sicurezza siano rispettate esattamente come nel piano di sicurezza perché una spesa che non ho incluso ma che includo adesso è quella dell'assicurazione fondamentale sia per le persone che operano all'interno del museo sia per i vari disastri possibili sia per le persone che vengono l'assicurazione voi sapete meglio di me che se solo qualcosa un millimetro di qualcosa non corrisponde ovviamente poi ci si attacca quindi non è facile tutto ciò quando si ha a che fare con degli edifici come questi appunto che sono edifici che non sono nati per un'attività museale bisogno ovviamente tenere conto che ci sono tutta questa serie di normative detto questo è anche vero che poi anche lì ci si può ingegnare nel senso che si possono chiudere con delle banali catenelle di plastica che sono estremamente economiche le zone più pericolose per esempio oppure noi abbiamo dovuto noi abbiamo le scale in pietra pertanto richiedono delle strisce antiscivolo particolari ovviamente molto più costose di quelle normali però i volontari si sono impegnati loro a fare tutto il lunghissimo procedimento di creare la mascherina spruzzare l'adesivo solo all'interno della mascherina attaccare la striscia col martello di gomma martellarla tutta in modo che si sagomi sullo scalino avessimo mai preso qualcuno a farlo avremmo speso un patrimonio questa più o meno è l'esperienza museale laboratori i laboratori sono un'entrata molto importante è un'attività perché adesso è brutto parlare solo di soldi purtroppo l'aspetto economico o in me è imprescindibile i laboratori sono bellissimi perché comunque il fatto di poter creare qualcosa dei manufatti con le mani viene apprezzato e di dar libero corso alla fantasia viene apprezzato da tutte le età il mio intento uno dei miei intenti è stato quello di aumentare l'offerta in tutti i sensi quindi noi abbiamo creato per esempio i laboratori in lingua inglese perché questo perché vabbè perché io sono mezzo inglese e poi perché diversi volontari sono o madrelingua o comunque mezzi e mezzi come sono io e questo con le scuole è stato un jolly pazzesco perché comunque ci sono medie che da Torino tutti gli anni partono perché hanno degli insegnanti che tengono molto ad insegnare bene la lingua e bene o male per i ragazzi che sono sempre refrattari giustamente a certi insegnamenti teorici il fatto di venire e lavorare in inglese con quindi una ripetizione di terminologie di verbi di aggettivi di nomi significa che escono che comunque hanno imparato minimo minimo una trentina di parole soprattutto però le hanno imparate potendole usare sapendole usare quindi dei risultati veramente notevoli poi anche come disciplina devo dire che io li stecchisco all'entrata perché li accolgo parlando solo inglese quindi questi poveracci mi guardano atterriti dopodiché a tre quarti del laboratorio mi metto a parlare in italiano mi odiano crentemente perché capiscono che ho sentito tutti i loro discorsi comunque i laboratori in lingua inglese sono stati veramente un grande jolly abbiamo creato un percorso all'interno del museo solo per i bambini quindi il concetto è il bambino questo si parla quindi di visitatori di sabato e domenica noi siamo aperti sabato pomeriggio domenica pomeriggio i bambini portano in giro i genitori e mostrano loro il museo al lato pratico tutto questo è realizzato sempre a costo quasi zero ovviamente come abbiamo fatto abbiamo plastificato delle schede di percorso colorato con frecce con segui le farfalle segui le bolle segui le righe colorate abbiamo tracciato queste righe queste bolle eccetera e abbiamo trovato delle manine di plastica colorate dove c'è la manina c'è una stazione tattile c'è l'obbligatorio toccare per esempio e via dicendo quindi questa è stata un'altra iniziativa che è piaciuta molto abbiamo creato un sentiero dell'acqua fuori dal museo quindi con tutto un percorso di nuovo fatto artigianalmente con le impronte spruzzate di blu che seguono tutto un camminamento con due bacheche con tutte le poesie sull'acqua eccetera eccetera abbiamo cercato di offrire tutto il possibile aveva un grande riscontro e poi la ludoteca è molto rischiosa perché lì poi le normative di sicurezza vanno alle stelle l'abbiamo trasformata invece in coffee shop book shop e vendita di gadget e mi hanno chiesto dei miei colleghi abbiamo fatto un cartello sempre realizzato tutto artigianalmente perché l'hai messo in inglese e non in italiano perché in inglese è corto e in italiano diventava lunghissimo quindi ecco perché coffee shop e book shop e gadget abbiamo quattro tavolini abbiamo stampato delle fotografie della vecchio museo della vecchia fabbrica in un altro tavolino abbiamo messo le fotografie dei laboratori in un altro del progetto con arciso con un vetro sopra quindi i visitatori si siedono e già cominciano a vedere delle cose carine abbiamo una normalissima macchinetta per il caffè comprata lì per cop a 59 euro che fa un caffè buonissimo una scatolina dove scriviamo vi offriamo volentieri il caffè per favore dateci tot per le cialde in modo che possiamo ricomprarle noi gratis offriamo tè e tisane spesso incrementiamo con dei dolci fatti da noi di fianco ci sono gli armadi con i gadget quindi il visitatore che è lì che si beve il suo caffè piuttosto che il suo tè è incentivato a guardare e magari comprare e poi abbiamo la parte libreria dove abbiamo tutta una serie di libri consultabili e qui arriviamo all'iniziativa alla quale io tengo di più un settore di questa libreria è dedicato ai non vedenti in pratica abbiamo dei libri che sono dei libri realizzati appositamente quindi sono dei libri che descrivono Torino piuttosto che Venezia e sono tutti realizzati in rilievo e quindi sono dei libri fatti specificamente per persone che non vedono poi nel ripiano sotto questi libri abbiamo un lettore con una voce sintetica in pratica e ce l'ha regalato un avvocato non vedente di Saluzzo il quale con questo lettore si è laureato poi adesso ne ha uno molto più moderno molto più bello però comunque per noi è stato un gran regalo perché la persona non vedente da noi può venire e prendere uno qualsiasi dei libri della libreria questo sistema funziona con una scannerizzazione dalla terza pagina comincia a leggere con una voce sintetica e può incamerare fino a cento pagine e poi qui arriviamo alla parte che mi sta a cuore ossia quella del rendere il museo come secondo me sarebbe giusto che fosse fruibile a tutti abbiamo un'enorme fortuna che è quella di non avere barriere architettoniche perché per fortuna quando hanno ristrutturato hanno tenuto questo aspetto da conto quindi abbiamo scivoli abbiamo bagno disabili abbiamo ascensore e quant'altro abbiamo sempre lavorato molto con le persone con handicap fisici o mentali o psichici perché comunque la lavorazione della lana si presta tantissimo però io avrei voluto estendere il museo veramente a tutti perché secondo me i musei dovrebbero tutti essere così quindi due o tre anni fa non mi ricordo neanche più siamo andate a Torino e abbiamo frequentato un corso di didattica museale per non vedenti era un corso organizzato dall'Univoc che è all'interno dell'Unione Ciechi di Torino quindi con il gruppo di ragazze dei laboratori abbiamo seguito tutto questo corso e da lì abbiamo cercato di imparare di capire come effettivamente concretamente rendere il museo fluibile ovviamente sempre a budget zero perché questo è il problema a fine corso per fortuna la realizzazione finale di tutto il corso erano delle planimetrie del museo realizzate col metodo Minolta non so se voi abbiate idea di cosa sia è praticamente un metodo di stampa che utilizza una carta che ha dentro delle microcapsule di inchiostro quindi si stampa su questa carta dopodiché questa carta passa attraverso un fornetto il calore fa scoppiare dilattare le microcapsule di inchiostro e la stampa diventa in rilievo e dopodiché si irrigidisce ve le ho portate tra l'altro adesso le vado a prendere e ve le mostro quindi abbiamo le planimetrie del museo che sono realizzate in Minolta noi all'entrata abbiamo un normalissimo portariviste dell'IKEA nella quale abbiamo un dépliant del museo per la visita da noi è sempre guidata però se qualcuno se la vuole fare per i fatti propri esiste questo dépliant l'abbiamo in quattro lingue in inglese in francese in tedesco in italiano e di fianco abbiamo comunque tutte le planimetrie appunto in metodo Minolta problema del metodo Minolta qual è le risme di carta costano come il fuoco hanno dei prezzi veramente pazzeschi allora abbiamo dovuto ovviamente trovare altri sistemi quindi al di là dello scrivere in braille io ho comprato la tavoletta ho imparato a scrivere in braille non sono capace a leggere il braille se non vedendolo non riesco a leggerlo a leggerlo con le dita però comunque se lo vedo sì e sicuramente faccio errori scrivendo però pazienza comunque insomma con un po' di sforzo abbiamo realizzato le scritte in braille abbiamo realizzato i contorni ai disegni con la colla caldo in modo che comunque era una specie di Minolta artigianale siamo favoriti dal fatto di essere un museo tattile comunque per sua natura quindi da noi tutto è toccabile e l'ultima cosa che ci siamo inventati è stato per esempio per i bagni in modo tale che è vero che la persona non vedente per favore se dico delle cose non giuste mi corregga per favore d'accordo comunque è vero che la persona non vedente arriva in museo con un accompagnatore questo è evidente perché non può arrivare in cima a una montagna da solo è pur vero che comunque è altrettanto giusto secondo me che possa avere una sua concezione degli spazi quindi fuori dai nostri bagni ci sono appese delle semplicissime lastrine di rame di quelle che si comprono dal cartolai a un euro appoggiandole sul feltro e facendo attenzione si riesce a sbalzare tutta la planimetria dei bagni dopodiché si riescono ad inserire nella tavoletta per scrivere il braille e quindi praticamente noi abbiamo scritto in braille per esempio bagno donne poi sotto c'è la planimetria più sotto ancora siccome non tutti sono non vedenti esistono anche gli ipovedenti quindi c'è una scritta molto grande in nero su fondo bianco e poi la cornice in feltro perché insomma siamo un museo del feltro quindi quando mai la cosa buffa è stata questa che al corso ci avevano insegnato che esistono dei simboli ben precisi pertanto il lavandino è un semicerchio il gabinetto è un ovale e lo studio a Torino di architettura che si occupa di tutto ciò si sono fatti delle crasse risate quando io ho telefonato dicendo scusate per i bidet che simbolo metto e questi avete dei bidet in museo sì abbiamo i bidet non so perché non mi chiedete perché però e allora ci hanno pensato un po' e hanno detto boh metti un quadrato quindi vabbè abbiamo i quadrati che indicano i bidet quindi detto tutto ciò abbiamo poi con siete stanchi volete che facciamo una pausa di due minuti no ditemi perché io non voglio rintronarvi ci siamo avventurati da perfetti incoscienti con la prima esperienza con un gruppo di ben 35 non vedenti e i povedenti che è stato spesso come gruppo perché poi avevano ovviamente gli accompagnatori sono arrivati appunto da Torino e abbiamo fatto visita del museo e laboratorio dico da incoscienti perché effettivamente per quanto pensassimo di essere preparati probabilmente siamo stati anche molto aiutati dalla fortuna perché è andato tutto molto bene abbiamo imparato tanto che cosa abbiamo imparato in particolare una cosa che abbiamo veramente azzeccato a puro intuito è stato quello di creare delle postazioni con delle sedie dove le persone potevano sedersi e mentre io descrivevo qualche cosa le ragazze facevano passare nelle mani di tutti quanti ciò di cui si stava parlando questo cosa ha significato che anziché creare delle code pazzesche per toccare il tale oggetto che è sempre un problema gigantesco perché poi ovviamente ognuno giustamente ha i suoi tempi per toccare però quelli che aspettano di solito si spazientiscono siamo riusciti moltiplicando gli oggetti a fare in modo che simultaneamente tutti quanti avessero un'idea concreta di ciò di cui si parlava e questo ci ha favoriti veramente tanto perché comunque ha permesso di realizzare con un gruppo così numeroso una visita abbastanza scorrevole i tempi quando si hanno dei visitatori non vedenti si dilatano moltissimo e secondo me bisogna anche tenere conto che da parte delle persone non vedenti è richiesto comunque un dispendio di energie molto grande perché comunque al corso ci hanno spiegato che mentre la persona vedente entra in un ambiente nuovo e con un colpo d'occhio registra l'insieme dell'ambiente dopodiché con calma si studia i particolari la persona non vedente deve fare il procedimento esattamente inverso quindi se io entro e mi trovo davanti che so io a una statua di una donna che tiene in mano un anforo adesso mi invento la prima cosa che mi viene in mente io ho un colpo d'occhio e poi posso cominciare a guardare l'anforo al piede piuttosto che ma la mia prima percezione è che comunque è una statua ed è laggiù in fondo alla sala eccetera eccetera la persona non vedente deve partire dall'esplorazione del particolare e mano a mano farsi un quadro d'insieme e questo richiede del tempo quindi la prima cosa che bisogna fare è dare una non assolutamente né affrettare né volersi sostituire all'esplorazione ma dare la possibilità di avere un'idea della collocazione dell'oggetto quindi entriamo in una stanza e la stanza un riferimento esatto di fatti nelle planimetrie c'è il famoso voi siete qui che è una freccia con un pallino sotto l'esplorazione tattile parte sempre dal voi siete qui nella realtà si deve dare un'idea dell'ambiente e l'idea deve essere concreta è inutile dire questa è una stanza molto grande molto grande non significa assolutamente niente una stanza molto grande è molto meglio una stanza lunga tipo 10 macchine o lunga 50 metri un qualcosa di concreto e poi le posizioni nel senso che abbiamo a sinistra a destra oppure che so io a ore 9 a ore 3 ci sono le tali cose e la statua in questione è collocata in fondo dove su un basamento allo stesso livello nostro più alto eccetera eccetera è un'idea d'insieme è una statua che rappresenta una donna con un'anfora in questo caso dopodiché avendo dato questa prima informazione la persona non vedente può cominciare a realizzare la sua esplorazione durante l'esplorazione si può integrare non ci si deve assolutamente sostituire sono due concetti completamente diversi quindi in un museo tattile si è favoriti dalla possibilità di toccare tutto e ovunque come è da noi e questa è una bellissima cosa all'Unione ci hanno raccontato di musei dove questo diventa un grande problema quindi per esempio i guanti non i guanti il marmo forse voi non conoscete ma esiste uno scultore cieco Felice Tagliaferri che realizza delle sculture di marmo bellissime sono veramente bellissime vi suggerirei di guardare poi esiste una fondazione che si chiama fondazione Lucia Guderzo Lucia Guderzo era la moglie di un signore non vedente che si chiama Davide Cervellin Davide Cervellin ha vicino a Padova un'impresa una ditta che produce tecnologie per non vedenti Lucia era sua moglie e purtroppo tragicamente mancata decisamente presto perché aveva 50 e qualcos'anni Davide che è un mio amico ha creato questa fondazione che si chiama Lucia Guderzo se andate sul sito ci sono tutti i video uno di questi è quello di Felice Tagliaferri e questo scultore andò a Napoli perché voleva vedere e di conseguenza toccare il Cristo svelato gliel'hanno impedito con la storia che il marmo si rovina eccetera eccetera lui cosa ha fatto? è tornato a casa e facendosi illustrare come era questa statua l'ha ricreata bellissima perfetta di marmo dopodiché l'ha fatta toccare a migliaia di persone per dimostrare che il marmo non si rovinava affatto bene adesso ho divagato però sono cose veramente secondo me incredibili torniamo alla visita museale abbiamo realizzato un laboratorio che è lo stesso che faremo oggi uno dei due questo laboratorio noi l'abbiamo proposto a parte il fatto che lo facciamo continuamente in museo ma a un certo punto ci è venuto in mente di proporlo alla lega del filo d'oro quindi siamo andate all'ESMO ci siamo portate materiale e fanciulle formate e abbiamo con loro realizzato questo sapone scrub che è una saponetta infeltrita che può essere facilmente realizzata da persone non vedenti ed è un oggetto utile carino che poi si può appunto rivendere come gadget a questo punto direi che di teoria vengo già probabilmente data abbastanza però vorrei di passare alla pratica se siete d'accordo quindi andiamo a feltrare allora per feltrare cosa servono servono acqua calda sapone lana e mani perciò se ci procuriamo la lana l'ho portata i saponi anche le mani ce le avete voi ci serve l'acqua calda poi possiamo tranquillamente andare avete risolto con l'acqua si con calma se qualcuno vuole solo ecco se qualcuno vuole sapere qualcosa appunto sull'esperienza del museo su qualcosa sono qua abbiamo poi portato magari poi avrete occasione di vedere un video dove ci sono le testimonianze dei vecchi operai che raccontano la loro vita e sono stati ripresi di fianco al loro macchinario tra l'altro questo è stato molto bello perché alcuni sono poi mancati quindi è rimasta questa testimonianza di questa persona che racconta come lavorava con questo macchinario tenendo presente con ultima cosa c'è un collegamento molto stretto tra il paese la valle e l'ecomuseo perché questo signor crumier questo alsaziano era comunque il classico imprenditore di quei tempi padre padrone ha creato una serie di iniziative estremamente belle estremamente utili una di queste noi l'abbiamo sfruttata biecamente a fini di pubblicità e commerciali ed è stato comunque molto bello finché siamo riusciti a farlo ed è stata la famosa zuppa cosa che ai visitatori piace appunto tornando al discorso di prima i visitatori sono molto più contenti quando raccontiamo la storia della zuppa che se stiamo lì a fare una dissertazione sui tipi di lana ed è ovvio questo allora come funzionava la zuppa crumier è stato un illuminato è stato un antesignano perché probabilmente forse si contende il primato con Olivetti della prima vera mensa aziendale però il come l'ha realizzata che è stato incredibile cioè lui praticamente ha acquisito una cucina una cuoca e un aiuto cuoca e a un certo punto addirittura gli orti di guerra e al mattino principalmente aveva operai e donne perché nel tessile ci vogliono le manine delle signore queste operai abitavano ovviamente nelle loro varie casette venivano giù a piedi dalle case con un secchio di metallo col coperchio prima di entrare al lavoro posavano il secchio in cucina a mezzogiorno suonava la sirena loro passavano in cucina prendevano il secchio pieno di zuppa calda lo portavano a casa dove tutta la famiglia i bambini che erano tornati da scuola eccetera mangiava la zuppa della crumier siccome l'intervallo era di un'ora questo permetteva alle madri e anche ai padri di far mangiare l'intera famiglia e di tornare al lavoro era una mensa familiare che è veramente eccezionale tra l'altro noi sappiamo di un padre che è rimasto vedovo giovane che è riuscito a crescere i suoi figli anche perché comunque tutti i giorni c'era questa zuppa pronta e questa zuppa nell'immaginario del paese nei ricordi è rimasta vivissima ci sono persone di 50-60 anni che ti dicono tu parli ah me la ricordo era buonissima era meravigliosa e allora tre o quattro anni fa abbiamo trovato l'erede dell'ultima cuoca ci siamo fatti dare la ricetta e abbiamo per tre anni realizzato la festa della zuppa è segreta comunque sostanzialmente a base di verdure e di pasta è buona perché gli ingredienti sono buoni perché cuoce in pentoloni enormi per tantissimo tempo quindi come tutte le zuppe viene molto buona la prima realizzazione io poi sono stata funestata da un vecchietto che nella trattoria locale tutte le volte mi tirava per la giacca e mi diceva però la pasta non era proprio quella che avete usato voi dice vabbè ci perdoni ha avuto un successo enorme il secondo anno sono venute 80 persone tra cui 30 da Torino addirittura noi avevamo creato un menù che prevedeva due crostini la zuppa delle fette di toma locale due salumi locali una fetta di crostata bicchiere di vino e caffè iniziativa bellissima ovviamente poi cosa succede che siccome siamo in Italia iniziano i problemi con l'asl eccetera eccetera quindi la zuppa finisce l'altra cosa che aveva fatto Cromier in una delle fotografie iniziali del museo si notavano degli abbaini a punta una serie di abbaini quegli abbaini erano le celle delle suore allora la storia andò così praticamente Cromier non era neanche valdesero ugonotto comunque sempre protestante il paese interamente quasi di valdesi Cromier a un certo punto si trova corto di mano d'opera femminile perché comunque non tutti erano d'accordo che le figlie andassero a lavorare in fabbrica non dimentichiamoci che stiamo parlando di inizi del 1900 quindi questa emancipazione non era poi gradita a tutti e quindi Cromier si trova in difficoltà cosa fa? si rivolge a un gruppo di suore in Veneto esisteva questa cosa terribile io l'ho scoperta da quando ho iniziato a fare la guida mi fa venire la pelle d'oca ancora adesso quando la racconto però così era quando le ragazze rimanevano incinte al di fuori del matrimonio per il disonore venivano scacciate di casa è una cosa che io non riesco neanche a pensare però così è in Veneto abbondava tutto ciò perché? perché c'era comunque la questione dei fidanzati che partivano in guerra del fronte quindi dei soldati stranieri insomma si è verificato abbastanza spesso a quanto pare queste povere tapine come se già non fosse abbastanza troce troversi incinte da sole venivano pure scacciate e si rifugiavano nell'unico posto dove potevano ossia dalle suore che hanno creato questa istituzione che si chiamava le protette come le mamme a me esatto Crumier si mette in contatto con le suore del Veneto e fa venire un gruppo di suore le protette e i bambini quegli abbaini erano le cellette delle suore e immaginatevi abbiamo qualche fotografia ancora con quei copricati pazzeschi ad ala enormi scuri eccetera eccetera allestisce un dormitorio uno stanzone per le protette e i bambini dà lavoro alle protette in fabbrica e finanzia questa è la cosa che io trovo comunque notevole finanzia la gestione di un asilo nido in paese gestito dalle suore cattoliche senza interferire minimamente quindi da un punto di vista religioso aperto a tutti i bambini del paese e questo è il motivo per cui nell'elenco telefonico di Villar ci sono parecchi cognomi veneti perché sono i discendenti dei bambini delle protette che ovviamente avevano i cognomi delle madri e che si sono poi fermati e naturalizzati quindi Cromiera ha veramente realizzato delle iniziative sì decisamente decisamente quando parla delle diciamo collaborazioni che si fanno su tutto il percorso tattile e nel senso che si che si va in diversa forma o diversa texture entrambi sia la texture che le forme dimmi dobbiamo microfonare anche le domande per lo streaming microfonarla per favore la prossima allora la domanda era stata il percorso tattile come è strutturato cioè se solo su forme o su come si dice texture in italiano che non lo so texture si dice così bene meno male allora il percorso tattile per quanto riguarda la visita museale è sia sulle materie prime sia sui manufatti sia sui macchinari perché noi facciamo toccare anche i macchinari in museo esiste un macchinario stupendo che è la garzatrice a cardi vegetali ne esistono solo più due in Italia a cardi vegetali i cardi sono praticamente dei cilindri con delle punte spinose per intenderci degli uncini due o tre volte all'anno in fabbrica fermano la lavorazione industriale puliscono tutto perché poi deve essere tutto lindo e tessono un tessuto di lana pregiatissima di qualità veramente super 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 extra questo tessuto tra l'altro pesantissimo viene portato in museo dagli operai umido perché se la fibra non fosse umida si spezzerebbe e questa lunghissima pezza che può essere larga io con i metri non sono brava ma diciamo due metri tre e lunga venti o più viene passata su questo cilindro coperto da cardi vegetali gli uncini dei cardi alzano il pelo si crea un tessuto che più o meno al principio dell'oden ha tutte queste scaglie di pelo sovrapposte come le tegole il nostro è un tessuto nuvolato che serve per fare delle coperte che sono una cosa meravigliosa perché durano una vita sono caldissime sono lavabili in casa perché già parzialmente infeltrite c'è una domanda laggiù aspettiamo il microfono mentre stanno cercando il tecnico per la domanda vi dico solo questo molte industrie avevano questo genere di macchinari quando nel dopoguerra è scoppiata la moda del macchinario nuovo moderno come nelle case arrivavano i lavatrici piuttosto che gli elettrodomestici all'ultimo grido li hanno buttati via questi macchinari e sostituiti con macchinari nuovi costosi eccetera alla crumiere non avevano i fondi necessari per realizzare tutto ciò si sono tenuti i vecchi macchinari adesso siamo rimasti gli unici in Italia a poter realizzare delle lavorazioni particolari proprio perché abbiamo ancora i vecchi macchinari pensate un po' mi dica senta le volevo fare una domanda io sono un disable sulla sedia Rotel non so se mi vede sì per quanto riguarda il laboratorio di stamattina posso dare un aiuto cioè posso partecipare attivamente o come ci sono problemi lo può proprio fare senza nessun problema nessun problema non chiedere prima per non tra l'imbarazzo nessunissimo problema basta che lei abbia le mani funzionanti dopodiché si fa tutto anzi e direi che proprio il fatto di essere disabile in questo caso non c'entra per niente quindi sì benvenga ecco l'unica semmai vi verrà in mente di realizzare laboratori di feltro un'ultima cosa mi viene in mente così al brucio è che a volte l'esperienza sensoriale con la lana essendo molto forte con i bambini con problemi di autismo può risultare una stimolazione eccessiva noi abbiamo ovviato questo tenendo dei guanti di lattice misura piccola e di solito con quelli li convinciamo a feltrare lo stesso così mi è venuto grazie grazie mille ottimo consiglio andiamo a lavorare sì allora sì noi stiamo preparando ci accomodiamo in sala per il laboratorio questo lo devo tenere lo stesso grazie mille grazie mille grazie mille